West Side Story, nato nel 1957 a Broadway, ha avuto un discreto successo, però con molte perplessità, con molte critiche negative, e sarà l'anno seguente, 1958, quando il musical attraversa l'Atlantico e va al West End di Londra, e lì ha un successo immediato, molto più che a Broadway, e avrà 1039 recite ininterrotte. Si è fatto una registrazione audio e, come è stato già detto, nel 1961 Robert Wise, un regista cinematografico, e il coreografo del musical, il grande coreografo, Tukur, che ha fatto tantissimi balletti, Jerome Robbins, curano la realizzazione cinematografica. La trama, come saprete, come è stato sottolineato dal titolo di questa conferenza, è basata su un testo del 1596, molti anni prima, cioè il Romeo e Giulietta di Shakespeare, uno dei più grandi classici del teatro di prosa. E, senz'altro, ci sono dei paralleli che proverò a evidenziare nel corso di questa conversazione, però non dovete prendere molto letteralmente, troppo letteralmente, questo parallelo, Romeo e Giulietta, West Side Story. Non è così, eh? Prima di tutto, il musical non si chiama Maria e Tony, che sono i due grandi protagonisti, diciamo, diciamo, Tony e Maria, come si chiama il drama di Shakespeare, Romeo e Giulietta. Si chiama West Side Story, e quindi non si concentra sui due protagonisti, bensì su un luogo, un luogo duro, brutto, urbano, e capiremo alla fine della storia che l'unica possibilità di un romanzo vero in questo ambiente di guerra è di emigrare altrove. Infatti la romanza più significativa come contenuto, come messaggio, sarà somewhere, da un'altra parte, da alcuna parte, fuori da questo inferno del West Side Story, del West Side, della parte occidentale di New York, forse si troverà la possibilità di un romanzo vero. Allora, quindi non è esattamente la storia di Capoletti e Montechi, due famiglie che si disputano in Verona, bensì due, diciamo, gangs, gruppi di guerriglia urbana, se volete, sono dei giovani emigrati, un gruppo, i puertorricani, quelli di Giulietta, per capirsi, di Maria, e un altro gruppo invece di ragazzi nati a New York, però seconda generazione, quindi vengono chiamati anche Pollacks, dei genitori polacchi, quindi è una guerra anche razziale, se volete. Infatti, originalmente, alla genesi di questo musical, l'idea di Jerome Robbins proposta a Bernstein era di fare un East Side Story, la storia della parte est della città, dove c'era una guerra, grande tensione, fra cattolici e ebrei, dove Giulietta sarebbe stata ebrea e Romeo cattolico, quindi una guerra di religioni. Non si è fatto niente e sei anni dopo hanno rilanciato l'idea a Bernstein di fare West Side Story, dove la crisi, la tensione, è, come vi dicevo, più etnica che non religiosa. Ci sono dei testi bellissimi, quando vedrete lo spettacolo, i testi delle canzoni, li ha scritto un grande compositore di musical, Allora Ventene, che si chiama Stephen Sonheim, Sonheim, e Sweeney Todd, forse qualcuno avrà visto questo film, o Sunday in the Park with George, oppure Into the Woods, è un grande compositore di musical americano. All'epoca un giovanotto, però musicista, che ha scritto i testi delle canzoni per Bernstein. Però i due geni di questo musical sono Jerome Robbins, ho già detto, il coreografo e ideatore di questo progetto molto insolito, e poi Bernstein, Bernstein che nel 18 si celebrerà in tutto il mondo il centenario della sua nascita, è un compositore, diciamo, artista assolutamente poliedrico, compositore, direttore d'orchestra, pianista, solista, organizzatore musicale, didatta, divulgatore, c'è stato fino a poco fa un DVD alla settimana dei suoi programmi televisivi per i giovani in Stati Uniti, che sono dei capolavori della divulgazione musicale, saggista, promotore, veramente un uomo universale all'interno della musica. Allora, West Side Story, guerra urbana fra due gangs di giovani. Da una parte gli squali, chiamati i sharks, squali, che sono i portoricani, e dall'altra parte i jets, o polacks, i discendenti dei polacchi, del Bronx, che sarebbero, diciamo, quelli seconda generazione americani. Quindi da una parte Maria, che sarebbe Giulietta, che sarebbe un capoletto, per orientarvi, e dall'altra parte Tony, Romeo, Montecchi, che fa parte del gruppo dei jets. E, diciamo, l'essenza del conflitto della storia, in questo background, in questo sottofondo di tensione urbana, etnica, è che un capoletto si innamora di un Montecchi, o sia, un shark, o una shark, Maria, si innamora di un jet Tony, e lì sarà il grande drama. E' quello che si chiama in inglese miscigenation, o sia, gruppi incompatibili di tensione etnica che provano a sposarsi. e dovete sapere che non è una cosa leggera, in alcuni stati degli Stati Uniti, in quell'epoca, era proibito dalla legge che due persone di razza o etnia così diversa celebrassero un matrimonio ufficiale, per fortuna non è più così. Quindi, se vediamo il prologo del musical, subito entriamo in materia, non c'è una parola, è tutto coreografato, però subito il genio di Jerome Robbins ci fa capire la terribile tensione che c'è fra i Sharks portoricani emigrati e i Jets, seconda generazione di polacchi, e visto che si parla di guerra e di guerra che porterà delle vittime, Bernstein si lascia andare e utilizza un linguaggio che non è esagerato dire che sono variazioni sulla sagra della primavera di Stravinsky, veramente pieno di disonanze, di ritmi irregolari che subito ci fanno capire che non siamo più nel happy world del musical per intrattenere le famiglie, ma una denuncia di una situazione urbana totalmente attuale, quello che si dice in inglese here and now è un musical qui e adesso, totalmente realistico e un documento del momento presente. Quindi, prologo del West Side Story, chi conosce Romeo e Giulietta di Shakespeare riconoscerà questo inizio, la guerra tra Capuletti e Montecchi e l'arrivo del principe che prova a fermare la barufa, il principe Prince Scalus che si chiama nel testo di Shakespeare. Quindi, avete sentito un po' questa musica alla Sagra della Primavera, ritmi vertiginosi, dissonanze, frammentazione delle frasi, elementi di jazz, veramente una partitura assolutamente moderna e senza la concezione del linguaggio del musical. Allora, come nel Romeo e Giulietta di Shakespeare, Romeo e Giulietta si conoscono alla festa dei Capuletti, ricorderete questo. E anche qui, nel West Side Story, c'è una festa, un ballo organizzato dall'amministrazione comunale e proprio in questo ballo c'è diciamo la tensione fra il gruppo di Sharks e il gruppo dei Jets e lì, sarà lì dove inizierà il drama. Quindi, sentiamo questo blues, proprio il linguaggio del jazz, che apre la grande festa al gym. C'è questo ballo pubblico organizzato per questi giovani, provando a mettere in armonia i due gruppi. dance at the gym e il ritmo di blues. Allora, in mezzo a questo ballo c'è sì la musica tipica americana, un blues, se volete, però trattandosi di una storia dove sono coinvolti latinoamericani e portoricani non poteva mancare un ritmo latino dei caraibi e quindi qui appare subito il mambo che molti di voi lo conoscerete perché Bernstein lo ha messo in una symphonic dances, lui ha fatto come un'antologia strumentale, è stato suonato più volte anche dall'orchestra del teatro regio. Allora, qui vi chiamo l'attenzione su qualche aspetto musicale che vale la pena. C'è questo mambo intensissimo, trascinante, dove c'è anche un po' una gara fra gli americani e i portoricani a ballare questo mambo e a un certo punto come che sparisce la festa e si vedono questo contatto visivo fra Maria e Tony, Romeo e Giulietta e proprio loro amore a prima vista sparisce il mondo che li circonda e loro cominciano a ballare un cha-cha-cha un cha-cha-cha che è un altro ballo latinoamericano la cosa bellissima è che il cha-cha-cha è totalmente basato ante l'iteram su Maria forse la melodia più famosa di West Side Story che spero che voi vi la ricordate e ancora non abbiamo sentito il grande tema lirico di West Side Story che è Maria però qui Bernstein ce lo presenta in questa variazione prima di scandirlo in il modo più conosciuto quindi vediamo questo passaggio il mambo che è trascinante poi sparisce tutto il mondo intorno a Maria e Tony e in questa versione cha-cha-cha di Maria e poi loro si baciano e vengono subito interrotti soprattutto da Bernardo il fratello di Maria che in il drama di Shakespeare sarebbe Tibaldo e Maria viene portata a casa però non prima che Tony senta il nome di Maria questa portoricana che è appena conosciuto al valo quindi sempre siamo nella festa alla palestra e dance at the gym e mambo e cha-cha-cha ecco quindi lui viene a sapere che lei si chiama Maria e allora è incredibile io trovo questa musica ovviamente amo profondamente questo musical è difficile capire le prime reazioni alla musica e alla storia di Bernstein e Jerome Robbins e loro presentano la partitura già completa l'anno diciamo della prima a Broadway la presentano alla Columbia Records per vedere se si poteva fare un LP e è stata rifiutata pensate che è un grande passo falso della Columbia allora forse è la casa discografica più potente e importante degli Stati Uniti e hanno detto dice Bernstein nelle sue memorie anni dopo dice che le hanno detto nessuno potrebbe mai cantare questa musica è troppo deprimente ci sono troppi dissonanze ci sono troppe parole nei testi e Maria dice nessuno potrebbe cantare una linea melodica ci vogliono cantanti d'opera e quindi è stato bocciato e poi il producer sapete il producer che è quello che deve raccogliere i soldi per poter finanziare il musical una tale Cheryl Crawford e poco dopo il rifiuto della Columbia Records e anche lei decide di lasciare la produzione e non cercare più i soldi per realizzarlo perché dice è una partitura operistica non di musical ci sono troppi balletti dice lei e poi dice a chi le può interessare un mucchio di adolescenti in blue jeans e in guerra urbana dice quando leggiamo di queste persone ogni giorno sui giornali senza dover pagare un biglietto così caro come bisogna pagare a Broadway quindi non funzionerà mai sarà un fiasco e io mi ritiro peggio per lei e subito è saltato dentro un tale Hal Prince uno dei più famosi registi di musical e ha preso lui il posto del producer di West Side Story Hal Prince è diventato famoso perché ha fatto la regia di Evita il musical di Andrew Lloyd Webber però è un riconosciutissimo regista di musical e veramente risulta difficile capire questa reazione così violenta negativa pessimista del possibile successo commerciale che è fondamentale a Broadway perché non ci sono sovvenzioni il musical sopravvive o muore attraverso la biglietteria il botteghino senza botteghino non c'è futuro per un musical soprattutto quando sentiamo melodie così affascinanti come Maria che io penso che solo di diritti d'autori per le versioni innumerevoli che sono state fatte di questa melodia Bernstein è diventato un miliardario quindi sentiamo la versione originale di Maria forse la romanza più famosa del musical allora il testo come vi ricordo di Stephen Sondheim il testo della canzone vi leggo le frasi principali tutti i suoni più belli del mondo in un'unica parola Maria ho appena incontrato una ragazza di nome Maria ed improvviso quel nome non sarà più lo stesso per me ho appena baciato una ragazza di nome Maria ed improvviso ho scoperto quanto può essere bello un suono dillo forte ed è come una musica che suona dillo piano ed è quasi come una preghiera che questa è la frase che ripete di più Tony allora quindi una romanza fra le più popolari che siano usciti dai musical americani e infatti diciamo quando è stato presentato il musical a Broadway sul palcoscenico non ha avuto un grande successo e i Tony Awards che sono diciamo come l'Oscar del musical dal vivo West Side Story ha vinto solo due un Tony Award nel 58 era un anno dopo la prima Tony Award per la coreografia Jerome Robbins e per l'escenografia niente altro quando nel 61 esce questo film che stiamo vedendo ha spazzato via tutti i possibili Oscar dieci premi Oscar in tutto quindi Rita Moreno e George Chakiris i due portoricani la copia del fratello e la cognata di Maria migliori attori non protagonisti Oscar al miglior film alla miglior regia alla miglior fotografia ai migliori costumi miglior scenografia miglior montaggio miglior colonna sonora e premio speciale per la coreografia che di solito non c'è un Oscar per quello allora come mai questa diffidenza dei produttori della case discografiche con un musical che avrebbe spazzato via al botteghino e tutti questi premi allora come vi ho fatto sentire in questo prologo quando Jerome Robbins ci presenta la crisi fra questi gangs in guerra urbana la musica è veramente molto moderna molto moderna per l'epoca noi siamo nel 57 e erano anni di grande tensione razziali non ho tempo di raccontarvi i dettagli però il presidente degli Stati Uniti per esempio ha dovuto mandare l'esercito per obbligare una scuola di bianchi a accettare nuovi studenti neri che non venivano amessi nella scuola quindi il tema era veramente molto molto attuale questo dal punto di vista diciamo del contenuto della storia però anche la musica allora c'è un per questo il pianoforte qua non vi annoierò strimpellando il pianoforte però un elemento vi lo voglio sottolineare che è il tritono diciamo è un intervallo l'intervallo vuol dire lo spazio fra due note che nel medievo era assolutamente proibito veniva chiamato diavolus in musica il diavolo in musica era considerata una disonanza inaccettabile inascoltabile per esempio San Sans abbiamo appena visto Sansone Dalila di Camille San Sans lui ha scritto un pezzo molto popolare che si chiama Danza Macabra e la Danza Macabra comincia con la morte che suona il violino e suona e questo è l'intervallo è un intervallo totalmente disonante se voi lo invertite sempre da un tritono e gli intervalli diciamo questi spazi fra le note quando io l'inverto cambiano natura diciamo il tritono rimane sempre se stesso è veramente un suono ancora oggi molto sgradevole se volete nel senso che non dà pace che richiede una soluzione la ricerca della consonanza dell'armonia la cosa incredibile è che Bernstein ha basato tutta la musica di West Side Story sul tritono ovviamente la gente che sentiva questa musica per la prima volta come Columbia Records hanno trovato assolutamente disonante e non gradevole dice questo non farà successo e guarda per esempio nel prologo ovviamente Bernstein deve caratterizzare la tensione fra jets e sharks e qui subito questo è il fischio che fanno i jets per chiamarsi di uno all'altro e un tritono guarda qua come l'inizio come l'inizio della danza macabra di San Sans e si può capire diciamo ancora qui la canzone dei jets qui ancora il tritono e si può capire in questi diciamo momenti di tensione di queste baruffe urbane è quasi più difficile capire che anche dentro Maria questa melodia così armoniosa così dolce sia basata su il tritono vi faccio sentire questo è l'inizio della melodia sentite il tritono comincia proprio con la disonanza del famoso tritono e così via è stato molto coraggioso Bernstein però questo ovviamente questa presenza continua come un filo rosso conduttore attraverso tutta la partitura di questa disonanza questo intervallo in passato proibito nella musica classica vi dà un'idea di questo senso di tensione e di problematicità che Bernstein voleva introdurre dentro la sua musica e poi ci sono tutta questa irregolarità frammentarietà dei ritmi delle linee melodiche vi faccio sentire dopo the dance at the gym il ballo alla palestra e questo innamoramento di Tony con Maria i portoricani che hanno lasciato la festa vanno sul terrazzo del loro palazzo dove abitano e balleranno e canteranno uno degli altri grandi hit di West Side Story America e America è interessante sapere che America era forse il brano più amato di Bernstein di tutto questo suo musical e quindi vi faccio vedere abbastanza carino un intervento di Bernstein che sta registrando West Side Story dovete sapere che lui non ha mai voluto dirigere West Side Story dal vivo in teatro non ha mai fatto un disco diciamo del musical in sé e soltanto negli anni 80 ha deciso di fare una registrazione in studio senza lo spettacolo e con cantanti d'opera quindi Kiri Tecanagua José Carreras che viene molto bastonato se qualcuno di voi trova questo The Making Of West Side Story è molto interessante è un documentario di Bernstein che registra con i cantanti d'opera West Side Story e vi ho estrapolato un momento dove finisce la registrazione di America e lui dice sensazionale questa probabilmente è la mia canzone favorita di tutto lo show dice la faccio e la rifaccio e la rifaccio per provare per registrare per correggere e non mi da noia I don't get sick of it non mi viene a noia e questo forse dice Bernstein è un segno di freschezza e aggiunge con umiltà non fresco nel senso che si può dire di Mozart che rimane fresco per tutta attraverso la storia e dice Mozart è una classe a parte al di sopra di tutti noi quindi Bernstein che commenta America allora quindi prima di farvi sentire America che è uno dei grandi capolavori di questo musical e dove c'è una versione contemporanea di ritmi latini molto spinti e ovviamente c'è anche anche se la guerra è fra Sharks e Jets fra i portoricani e fra gli americani polacchi di seconda generazione vediamo in America che c'è anche un conflitto fra maschi e femmine del gruppo di portoricani in poche parole i maschi sono molto nazionalisti portoricani e si adattano poco al mondo americano soprattutto perché c'è questa guerra irrisolvibile con questo altro gruppo etnico invece le donne sognano sono felici di essere arrivati in America e non vogliono più tornare a Puerto Rico e quindi c'è questo battibecco vi leggo qualche passaggio per darvi un po' il clima per esempio dicono i maschi Puerto Rico dolce isola isola di brezze tropicale ananas che crescono ovunque piante di caffè che stormiscono ovunque e rispondono la contro battuta Puerto Rico orribile isola isola di malattie tropicali uragani che soffiano ovunque popolazione che cresce ovunque fanno questo segno e i soldi che non ci sono i bambini che frignano e le palotole che sibilano per diciamo il crimine la mafia locale eccetera poi dice una a me piace la città di San Juan che è la capitale a me piace la città di San Juan centinaia di fiori in boccio e la contro battuta centinaia di persone in una stanza per la povertà poi dicono l'immigrante va in America molto hello in America la contro battuta nessuno lo sa in America che Porto Rico è in America perché sapete che Porto Rico è diventato una delle stelle della bandiera americana da non confondere con Costa Rica che siamo molto autonomi indipendenti Porto Rico è una colonia americana e quindi nessuno lo sa in America che Porto Rico è in America dicono prendendo in giro poi quando tornerò a San Juan la capitale e porterò una nuova lavatrice per i parenti e la contro battuta ma cos'è che hanno da tenere pulito come per dire sono così poveri che non hanno niente da lavare nella lavatrice ancora un'altra porterò una tv a San Juan contro battuta se trovi la corrente per attaccarla ancora un altro battivico tutti ma coglieranno a braccia aperte contro battuta tutti si saranno già trasferiti qui a New York eccetera quindi sentiamo questo che è una forse delle coreografie anche più riuscite di Jerome Robbins siamo nel terrazzo del palazzo dei portoricani e dopo il dance at the gym dopo la festa dove si sono conosciuti Tony e Maria bene questo si senz'altro uno dei momenti trascinanti del film e con una musica molto moderna molto irregolare piena di sincope è difficile provate a seguire il tempo è veramente molto moderno e insolito per il mondo del musical allora però ovviamente nessuna rivisitazione del drama di Romeo e Giulietta può essere a posto senza la scena madre la scena più famosa e cioè la scena del balcone del balcone del primo incontro e dichiarazione d'amore fra Romeo e Giulietta quindi vediamo una vecchia versione abbastanza fedele a Shakespeare di un grandissimo regista italiano adesso vediamo dopo questo memorabile Sefirelli vediamo la versione West Side Story e come è stato trasformato il balcone per la scena d'amore fra Tony e Maria e usando è una trovata abbastanza geniale usando le scale di uscite d'emergenze nei palazzi di New York e loro parlano un attimo del problema dei due gruppi portoricani e i polacchi americani e viene fuori uno dei temi musicali più belli assolutamente uno dei hit di West Side Story Tonight Tonight stasera diciamo il mondo intero è solo tu e io stasera stasera è cominciato tutto stasera ti ho visto e il mondo è scomparso stasera stasera chi sei solo tu ci sei solo tu stasera quindi Tonight e adesso arriviamo al mio momento preferito di tutto il musical dal punto di vista musicale che trovo che è il grande capolavoro tecnico compositivo di Bernstein allora siamo vi faccio sentire la fine di One Hand One Heart una mano un cuore e praticamente il matrimonio segreto fra Romeo e Giulietta che in Shakespeare succede nella cella di padre Lorenzo e qui invece succede nel negozio dove lavora Maria un negozio di ramendi vestiti e questa cosa e loro cantano questa cosa totalmente dolce e lei si mette un tipo un velo da matrimonio e un matrimonio immaginario finto tra loro due però qui con tutto il sentimento e dice fa delle nostre vite una vita sola una mano sola un cuore solo nemmeno la morte potrà separarci ora e qui arriva la cosa che a me affascina che c'è questo grandissimo contrasto fra questo diciamo questo dueto totalmente dolce e armonioso lento e il rompe Tonight che abbiamo appena sentito però presentato un modo molto problematico e violento e perché dico che è il momento più virtuosistico di Bernstein perché lui lo fa in una versione a quintetto totalmente contrapuntistico o sea polifonico ci sono cinque fonti di melodie di ritmi che si mettono tutti insieme e sono cinque gruppi i Sharks i portoricani i Jets gli americani i polacchi Tony Maria e ancora Anita Anita ha fatto un appuntamento c'è una scena vi ricordo premio Oscar come attrice non protagonista e lei è sul letto e si sta mettendo le calze di setta e queste cose perché ha fatto un appuntamento con il suo compagno Bernardo fratello di Maria per vedersi dopo il duello questo duello questa guerra e all'ultima istanza che faranno i due gruppi questa sera il rumble la grande barufa che finirà in tragedia e quindi c'è Anita che si sta preparando per il dopo barufa ci sono Tony e Maria che sognano uno con l'altro e Tony ha promesso a Maria che lui farà di tutto per evitare che i due gruppi si scontrino e che succedano disastri e poi ci sono i due gruppi e come Bernstein passa di uno all'altro li mescola li mette insieme è veramente magistrale quindi sentite questa totale polifonia e il momento clou musicalmente è di massima tensione prima della grande guerra fisica che vi farò vedere subito dopo avete visto di una complessità mai sentito in un musical un passaggio così complesso è veramente pura polifonia quello che si chiama contrapunto sovrapporre diversi ritmi e melodie tutti insieme e che in qualche modo creano una unità e adesso la guerra quindi come nel prologo del musical che è fatto solo con la coreografia senza parole adesso di nuovo la guerra è fisica solo coreografato si parla un po' però non si canta e di nuovo la musica diventa modernissima siamo di nuovo nel mondo di variazioni della sagra della primavera di Stravinsky e succede il disastro Tony arriva provando a bloccare la guerra e finisce male uccidono al suo grande amico Jeff il capo dei Jets e lui in un momento di cecità di disperazione uccide il fratello di Maria è segnato il drama senza soluzione e alla fine quando cominciano a picchiarsi tutti si sente la sirena della polizia e vedete come la pulizia della coreografia dei movimenti come reagiscono i personaggi e gli strumenti di percussione al suono della polizia che sta arrivando totalmente in ritmo con la musica quindi the rumble la barufa è la grande tragedia del film hai visto queste reazioni con il ritmo della musica e quindi ormai siamo senza soluzione e Tony ha ucciso il fratello di Maria e va di nascosto all'appartamento al palazzo di Maria e prova a spiegare le cose è successo e loro cantano questa canzone che sarà anche la melodia che chiuderà il musical che si chiama Somewhere da qualche parte un testo disperato sull'altrove c'è un posto per noi da qualche parte un posto per noi pace tranquillità e aria aperta ci attendono da qualche parte c'è un tempo per noi troveremo un nuovo modo di vivere troveremo un modo di perdonare da qualche parte dammi la mano e ti ci porterò in qualche modo in un qualche giorno da qualche parte c'è un posto per noi ma sicuramente non nel west side e adesso arriviamo all'ultima scena finale del musical in Shakespeare ricordate la storia il padre sta obbligando Giulietta a sposare questo principe che lei assolutamente non ama il principe Paris e lei dice io non posso non lo amo e io sono già sposata con Romeo e quindi padre Lorenzo gli dà questa pozione questo filtro che bevuto per qualche ora giorno lei sembrerà totalmente morta e questo è il punto Romeo che era scappato che era scappato da Verona e padre Lorenzo gli manda una missiva spiegandole quello che è successo dice guarda non disperarti ho fatto questo quello e Giulietta vive però l'emisario che porta la lettera non trova Romeo e a Romeo gli arrivano solo le notizie che Giulietta è morta corre di ritorno a Verona e nel mausoleo dei Capuleti la trova veramente morta e disperato lui si uccide e mentre sta morendo Giulietta si sveglia pian piano e vedendo che Romeo si è suicidato si suicida anche lei e il finale vi dicevo che ci sono differenze con West Side Story il finale è altrettanto drammatico però è diverso è coerente con la tensione urbana di questa guerra fra i gruppi che abbiamo seguito durante il musical Maria vuole che Tony sappia che lei è pronta a scappare da New York con lui e prega a Anita che è una missione difficilissima lei deve andare dall'assassino del suo compagno di Bernardo fratello di Maria a dirle Tony guarda che Maria ti sta aspettando e verrà a trovarti per scappare e nel frattempo Tony ha raccolto un po' di soldi eccetera se non che se non che questa è la scena disastrosa arriva Anita al negozio di Doc dove lavora Tony e trova i Jets e lei dice guarda sto cercando Tony e loro dicono ma questa è la la vedova di Bernardo che vorrà con Tony lo vorrà uccidere e quindi non la lasciano avvicinarsi a Tony e cominciano anche a molestarla a toccarla e quasi a violentarla e lei furibonda e questa è la grossa differenza con Shakespeare lei umiliata insultata furibonda diventa vendicativa e dice guarda io ero venuta a dire che Cino che era diciamo il promesso esposo di Maria e ha ucciso Maria e quindi ditele a Tony che Maria è morta che non era vero e scappa furibonda odiando questi Jets e gli viene raccontato a Tony e quindi a Tony si sviluppa un death wish un desiderio di morire l'amore della sua vita è morta è stata uccisa adesso lui comincia a girare per le strade di New York o del West Side cercando Cino perché uccida anche lui lui vuole morire e ancora la differenza con Shakespeare lui urlando Cino Cino sono qua vieni a uccidermi lui a un certo momento vede Maria che arriva e non può credere ai suoi occhi Maria è viva e sta venendo a incontrarlo e quindi lui pazzo di gioia corre verso Maria e Cino che veramente cercava Tony per ucciderlo lo spara e uccide Tony e c'è questa agonia di Tony nelle braccia di Maria e Maria si alza che non muore nel West Side Story non muore Maria e manifesta che dice siete stati voi Sharks e Jets a uccidere Tony e a uccidere Bernardo e adesso io sono piena di odio e potrei uccidere anch'io e l'ultima melodia che sentiamo è Somewhere Somewhere che sì o se ad alcuna parte l'altrove sì è una melodia forse di speranza però è anche una dichiarazione che la malattia etnica raziale del West Side è incurabile non c'è soluzione e l'unica possibilità di sopravvivere è andare altrove grazie a tutti grazie a tutti